Secco sul dato e poi dopo lo commentiamo. Salvini è pronto a governare il paese ed è meglio un paese governato da Conte o da Salvini? Allora, su Salvini prevagono i giudizi un po' più severi, lo vediamo con il cartello 5, il 56% ritiene che non sia pronto, 29% sì, e con il cartello 6 nel confronto tra Salvini e Conte, lo vediamo, il presidente Conte prevale sul segretario Salvini, 48 a 29, però un quarto di italiani non si esprimono. Ecco, sono voti alti comunque perché...